che cosa vi aspettate che ci facciano costruire l'intera vicenda lo faremo poi vedremo più tardi un interrogatorio lungo non credo che sia lungo quanto quello dei condagati perché il fatto è decisamente ridotto rispetto a quello che riguarda le speranze però fino a quando lo facciamo lo sappiamo su cosa spunta? tornare liberi e riuscire a spiegare la nostra versione al pubblico ministero tanto da chiarire? scusate adesso però avete depositato una richiesta di riduzione? no no ma abbiamo depositato niente grazie a tutti grazie a tutti